Inzaghi, lato positivo, la caparbietà, la tigna che aveva chiesto, lato negativo, troppa sofferenza soprattutto nel finale. Vabbè, la sofferenza sappiamo, tutte le partite sono partite combattute in questa Serie A. Non è semplice, una volta insomma sul 2-0 avremmo dovuto gestire meglio, avremmo dovuto fare il terzo gol, al posto di prendere quel gol che ha riaperto la partita, però insomma, per come l'avevamo preparata, sapevamo che avremmo dovuto soffrire, avevo chiesto, tigna, carattere, la squadra, me l'hanno dimostrata e faccio i complimenti ai ragazzi. Le certezze ritrovate consuete, Milinkovic, Immobile, io le faccio anche il nome di Reina, è una gerarchia che è cambiata quella dei portieri. Ma io insomma non dimenticherei che il ruolo del portiere è un ruolo delicato, noi abbiamo avuto il nostro portiere Stracoscia che ha avuto il Covid, è stato fuori più di un mese, quando ritornerà nel migliore dei modi riprenderà il suo posto, ma come ho detto prima non deve diventare un problema, ma deve diventare un qualcosa in più per la squadra. Reina sta facendo molto bene perché sta dimostrando di stare molto bene, è una guida importante per la squadra, ma io chiaramente non dimentico Thomas che ha fatto quattro anni e mezzo con me, è stato tra i migliori portieri della Serie A in assoluto. Buonasera Simone, Lucio Micheli, Reisport. Possiamo dire che l'aspetto più importante di questa sera sia che la Lazio sa soffrire per portare a casa i tre punti? Beh questo senz'altro è la nota più positiva, avevamo bisogno di questi tre punti dopo lo scivolone con l'Udinese e l'abbiamo ottenuto avendo preparato una partita in meno di 24 ore, insomma. Sappiamo cos'è diventato tutti gli impegni ravvicinati post-Covid, abbiamo sofferto come era giusto che fosse e abbiamo portato a casa una partita molto molto importante per la nostra classifica, ma soprattutto per il nostro morale perché venivamo da un'ottima partita in Champions, però domenica avevamo perso in casa con l'Udinese. La Lazio fin qui in Champions League possiamo dire che non ha sbagliato un colpo, fin qui perfetto il cammino. Quello che invece rimane in campionato è il rammarico per i biancocelesti di aver perso dei punti importanti che adesso vi tengono un po' lontano dal vertice. Come si fa per riavvicinare il Milan e non solo? Bisogna cercare di vincere più partite possibili, però insomma guardando la classifica 17 punti con non dimentichiamoci che questa squadra ha avuto Milinkovic, Luis Alberto, Immobile, Lazzari, Ramos, per citarne qualcuno ma potrei andare avanti con Stracoscia e tanti altri, che hanno avuto tutto il Covid, abbiamo avuto delle grandissime leiva, abbiamo avuto grandissime defezioni, poi abbiamo avuto degli infortuni che ci hanno rallentato le rotazioni e la nostra crescita. Grazie. Grazie a voi.